ciao ragazze benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qua con un'altra puntatella dedicata a voi alle vostre collezioni ai vostri orologi alla vostra personalità si spera sempre che poi la vostra esposizione sia in linea con quanto richiesto dal canale cioè video di 7 minuti concisi spigliati interessanti fate il possibile per rientrare in questi parametri e poi come partecipare è scritto in sovraimpressione adesso oggi guardiamo qualche videino che simpatico 4 sono 4 video quindi non so quanto sarà la durata nella media diciamo per vedere un po le vostre collezioncine con la scimmietta che avevamo sulla spalla tutti assieme non ho nemmeno voglia di fare tanti discorsi perché intanto più o meno non li sapete come sono come funziona la rubrica lo sapete ormai l'orologio del giorno e questo simpaticissimo olis diver 65 acciaio e bronzo 40 mm calibro sellita sv200 che ho simpaticamente sistemato nel senso mi ha fatto un po di manutenzione ho lubrificato tutte le parti che dovevo lubrificare e sta funzionando perfettamente perché lo porto al mare quindi la salsedine la sabbia la polvere le intemperie tendono a metterlo fuori uso no le parti meccaniche comunque è un discorso che poi faremo più in là adesso diamo spazio ai vostri video dai la barra spaziatrice pronta per essere colpita dall'indice e l'indice la colpisce fuoco ciao davide sono filippo e dopo un po di tempo torno a mostrarti l'ultimo orologio che ho acquistato questo è Jäger Lecoultre dei primi anni 60 con un quadrante champagne un po' puntinato logo applicato gli indici sono scavati logo ore 12 e presenta questo quadrante diviso simmetricamente da due linee la sua corona originale eccolo la tassa in oro rosa in particolarità non è in oro giallo come è consuetudine ma in oro rosa presenta anche la fibbia originale il calibro è il P800C calibro carica manuale secondi al centro sfere a matita e la cassa è un 34 mm e mi accingo a mostrarti anche il calibro ecco il calibro come ho detto il calibro 800 che vediamo presenta il riporto dei secondi al centro link a block che non è un link a block standard ma è la forma più vecchia quella utilizzata da Jäger Lecoultre e code de genève e poi abbiamo un gioco di satinato e lucido sulla ruota di carica la ruota intermedia di carica insomma un calibro veramente meraviglioso bello fondello lavorato a perlage e la referenza che è 22 85 ti faccio vedere anche l'orologio del giorno che è questo long jean con cassa in oro da 35 mm corona e fibbia originali primi anni 60 carica manuale ti faccio i complimenti per il tuo canale grazie da Filippo Grande Filippo, per chi non lo conoscesse, io vi ricordo che Filippo è un vecchio amico del canale, mandava i video circa 2-3 anni fa, aveva 16 anni, 15, adesso va bene, avrà 18, è cresciuto, ma è un vecchio amico del canale, un caloroso saluto. E poi è sempre stato appassionato di orologi vintage, io mi ricordo i longjin che mi mostrava, che mi faceva venire la bavetta alla bocca, come ha messo anche il longjin alla fine che aveva il polso. E poi ci mostra questo Gégé Lecoutre d'annata, con il calibrino lì, con il riporto della ruota secondi, che la maggior parte dei calibri di quel periodo, vintage degli anni 50, avevano i piccoli secondi a ore 6, quindi per fare i secondi centrali ci voleva una ruota aggiuntiva che portasse il moto alla sfera centrale, in questo caso ce l'ha. Poi un'altra curiosità che mi sovviene da dire, è il fatto che sul fondello interno del Gégé Lecoutre, che vediamo qua, c'è la testa di martello, la testa, vabbè, c'è il simbolo 750 che sono i carati, dell'oro rosa, la firma della casa, Lecoutre, il perlage di decorazione, bello bello. Poi c'è la testa di martello, la testa di martello indica le casse, il materiale prezioso, in oro, oro giallo, platino, oro bianco, però realizzate fuori da Ginevra, non chiedetemi perché, per come, sono quelle realizzate fuori da Ginevra, e il numerino che c'è dentro, che qui è 141, adesso io non ricordo cos'è, ma c'è una tabella specifica che indica che il 141 è una precisa città, fuori da Ginevra l'hanno fatto in quell'altra città, che ora non mi ricordo quale, potrebbe essere, potrebbe essere 141, cosa c'erano, c'erano anche BL, c'erano anche Lelocle, le Show de Fond, c'erano tanti posti dove potevano fare, va bene dai, comunque che voto ti do, ti do un 8, ti do un 8 Filippo perché c'è, abbiamo usato due orologi, di valore, belli, d'oro, poi ti sei fissato con loro, se non mi sbaglio, con i materi preziosi, e ci spendi anche i soldini quindi, perché l'oro costa sempre di più, bravo Filippo, attendiamo due nuove novità, a chi ci piace, ci piace, bravo Filippo, prossimo video. Ciao Davide, ciao a tutti gli amici del canale, sono Antonino, sono qui insieme a mio figlio Michi, ciao Davide, ciao Michi, e niente, volevamo mostrarti la nostra collezione di orologi, che abbiamo deciso di presentarti, in ordine, prima i Quarzon e dopo. Ah bene, prima i Quarzon e dopo, si vedrà, intanto io qua vedo, ci metti sempre, gli amici del canale mettono degli oggetti per farci capire, qua c'è un libro sulla Porsche 356, lassù c'è la Ferrari di Michael Schumacher, se non sbaglio sì è quella, poi c'è un modellino lì che è una Lamborghini, quindi è appassionato di automobili e una copertina di un disco che non so cosa sia, quindi se non so cos'è non è musica buona, a parte quella al centro che è i Beatles, quella lì è il B-Road. Dopo i meccanici e come tutte le collezioni che si rispettino, prima dalle ciofeche per poi arrivare orologi più seri. Ci tengo a precisare che questa collezione è da identificarsi tra le collezioni entry level, ma che al suo interno racchiude dei pezzi che io ritengo, che a me piacciono tantissimi e che io ritengo essenziali per cominciare una collezione di orologi. Cominciamo subito, cominciamo col primo ciofeca, regalo della mia comunione, un Braille Mark II, un cronografo al quarzo, che tengo in collezione solamente per il ricordo dell'avvenimento, e niente, con questo suo quadrante esagonale particolare, nulla di che, lo indosso praticamente raramente, ma lo tengo appunto per il ricordo della comunione e di chi me lo ha donato. Un minuto e venti di cazzata finora. In questo caso un orologio al quarzo, però un orologio che ha fatto la mia storia. Ecco, abbiamo un Casio G-Shock, come è tutti i Casio, praticamente un orologio da battaglia indistruttibile. In questo caso saranno 15 anni che ho questo orologio e ho soltanto sostituito il cinturino, se a ricarica solare, radio controllato, un controllo di tutte le indicazioni di altitudine, pressione, eccetera, con una impermeabilità di 20 bar, quindi 200 metri. Fermo, perché ora sono due minuti e zero due. Poi dite, ma come si fa a fare un video corto? Non si può. Se uno perde due minuti e zero due a farmi l'introduzione, no, bla 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 bla, a farmi vedere un G-Shock di cui mi spiega tutto, un Braille di cui mi spiega tutto, sono due minuti. Due minuti ci avevi fatto un video gigantesco. Andiamo ad un altro orologino Casio. Questo addirittura per un periodo non si trovava nei negozi ed è stato anche, diciamo, oggetto di speculazione. Io l'ho trovato al suo prezzo originario, l'ho preso perché è simpatico, come si suol dire, essendo un orologio col quadrante Tiffany. Diciamo che è indossabile, soprattutto in estate, con una camicia, fa il suo, è un orologio gradevole. C'è l'hype sul Casio Alquarzo, lì da 50 euro, non so quanto costa, perché c'è il quadrante Tiffany, c'era la speculazione, e te vai orgoglioso di averlo comprato al prezzo di listino? Mai non l'avrei nemmeno preso al prezzo di listino. Cioè questi orologi quelli devi trovare ultra scontati su Amazon con un click al Prime Day o al Black Friday che lo porti via con 10 euro. Così ha senso di comprarli. Non comprarlo al prezzo di listino perché c'è il quadrante Tiffany, era il momento in cui c'era l'asta del Patek Philippe Tiffany, questo e tutto quello che era Tiffany, color Tiffany celeste, veniva... Non mi piacciono queste cose qua, no. Per ora il tuo voto in classifica qua è basso, perché già mi stai facendo agitare. Adesso ti andrò a presentare un orologio che racchiude fondamentalmente tantissime caratteristiche che tu non apprezzi, ma che io ritengo uno dei più belli della mia collezione. Lo tolgo anche dal cuscinetto. Questo Citizen, che è un broillon perché è radiocontrollato, ha l'accumulatore, batteria accumulatrice, perché è eco drive, quindi a ricarica solare, è titanio e ha il quadrante verde, è un cronografo e praticamente io lo reputo bellissimo. A te non piacerà, ma essendo un orologio Citizen Eco Drive in collezione ci sta, è anche in titanio, molto leggero, precisissimo ovviamente perché è in broillon ed è stupendo. Andiamo agli orologi meccanici e come ognuno che si approcci all'acquisto di un orologio meccanico, il primo che ho acquistato per entrare all'interno di questa categoria di orologi è stato questo Ciofeca Invicta. Sicuramente si rifà le linee di un ben più blasonato orologio, questo ha un NH35 con addirittura la massa oscillante logata dalla Invicta, un bracciale che il famosissimo test del sonaglio non sarebbe passato minimamente, in ogni caso ripeto è un orologio che fa il suo, funziona, lo indosso raramente adesso, però è stato il primo acquisto che mi ha portato all'orologeria meccanica. Meno male, va, a cosa è servito questo Ciofecone? Un orologio di mio figlio, estivo, un Lorus Casa Seiko, anche in questo caso abbiamo un movimento NH35. Finora l'orologio di tuo figlio è il migliore dei tuoi, quindi qua il voto altro lo dobbiamo dare al figlio, mia a te. Anche in questo caso fondello a vista con la massa oscillante dell'NH35 che dovrebbe muoversi, infatti lo fa. In questo caso abbiamo un cinturino in caociu, caociu, sana silicone. Con questo quadrante arancione, è davvero un orologio estivo, lo utilizza mio figlio principalmente e devo dire che anch'io quando vado in piscina o comunque al mare, pur avendo un'impermeabilità di 10 bar, lo utilizzo spesso. Bravo! Orologio che ha fatto la fortuna di Casa Citizen negli ultimi anni, anche questo è di mio figlio, regalo della comunione, quindi ben più serio rispetto a quello che ho ricevuto io, è questo Citizen Suyosa, in questo caso abbiamo un calibro serie 8000, ovviamente è un orologio riconoscibilissimo con la sua corona a ore 4, fastidiosissima nel momento dell'esecuzione della regolazione, ma in ogni caso per il costo e per la fattura di questo orologio è davvero un pezzo di primo livello, perché intanto è stupendo, è veramente bello, e poi il Movimento 82-15, se non sbaglio, è una sicurezza, e in ogni caso, ripeto, con questo quadrante giallo è un orologio estivo che si indossa piacevolmente. Bravo! Mamma mia! Quello che ti presento invece è l'orologio che tu, non so se hai acquistato o comunque, acquisterai per il simbolo dell'estate. Io l'ho acquistato con il bracciale, perché devo dire che rispetto al vecchio ProMaster, questo Marine ha avuto un'evoluzione nel bracciale davvero, davvero significativa, e come si suol dire, si fa sempre in tempo ad acquistare un cinturino giallo, come tu suggerisci, ma ci vuole coraggio per farlo. E niente, precisione come quello, come lo Tsuyosa, quindi nello stesso movimento, perfetto, quadrante giallo, anche in questo caso però, che degrada verso il nero, davvero un bellissimo orologio estivo, e la sua impermeabilità di 200 metri lo rende perfetto per le giornate al mare. Bravo! L'ultimo orologio, che è quello che è il pezzo da 90, se così si può dire, della collezione, è questo T-SOP, il X Panoramatic 80, col suo movimento derivato dall'ETA 28-24, anche in questo caso, ma io ho un fondello a vista, il bracciale con le maglie che si vanno ad inserire all'interno della cassa, il suo aspetto più vintage, perché si rifà al modello degli anni 70, anche se quello era un quarzon, devo dire davvero un bello orologio, da indossare in occasioni più formali, e davvero sono soddisfatto. Vero male, dai! Ho terminato con la mia collezione, ti faccio ancora i complimenti, ti saluto, ciao a tutti, rock! Love! Love, love! Ciao piccolo, ciao! Allora diamo un 8 a lui, che ha due orologi, ma ce li ha decenti, e un 5,5 a te, che hai avuto un'esposizione, che a me mi ha fatto venire il latte ai ginocchi, proprio no? Capito? Proprio, due minuti solamente per l'introduzione, e per parlare di due orologi che potevi far vedere così e mettere via, no? Dove è utile? E poi c'è tutti i orologi con il calibro 8.000, a parte il PRX finale, che diciamo che sia la punta di diamante del tuo bellissimo, della tua bellissima collezione, però 5,5, mi dispiace oggi, oggi mi prende così, è 5,5 a te, però il bimbo 8, perché c'ha il lorus automatico, e c'ha lo sui orologi automatico, 8 al bimbo, prossimo video. Ciao Davide, ciao, questo è il mio secondo video, che ti faccio, è un video di aggiornamento, va bene, aggiornamento, partiamo con due Seiko, questo qui, Seiko, simile speed timer, e un 42 mm, non è il 39, perché io l'ho preferito, avendo un polso grande, e questo è dedicato al mercato giapponese, ah, bravo, un bel orologio, e ho messo un cinturino in gomma, per praticità, in gomma, ecco, un cinturino in gomma, perché l'amico di prima ha detto, che il cinturino in caociu, dell'orus, che è un orologio da 100 euro, caociu è la gomma naturale, silicone è la gomma sintetica, è più economica, quindi sarà un cinturino in silicone, quello di prima, questo non lo so, però silicone e caociu, c'è una certa differenza, però è molto carino, come quello lì, da 39, anzi, forse questo qui, io esteticamente lo preferisco, ah, va bene, poi passiamo a un simpatico, 6 con 5, automatico, all black, molto molto simpatico, perché c'è questo dial, dial, in avocado, infatti questo si chiama avocado, avvocato, questo modello, e questo qui, io lo uso come tool watch, non diciamo, e fa un greggio lavoro, perché è molto preciso, buono, mi ha impressionato per la sua precisione, bene, avendo il calibro, se non sbaglio, 4R36, bravo, e, economico però, cioè, se parliamo di, 250 euro, 300 euro, lo compri, però veramente, ti fa un bel lavoro, e, e niente, dai, poi, io amo, al buio, quando si illumina, come un faro, la, la, la sua pasta luminescente, passiamo a qualche orologio, un po' più importante, dai, dai, questo qui, ce l'ho anch'io, è lo stesso, che hai recensito tu, io lo amo, veramente, un modello spettacolare, che ha fatto la Mido, e, cioè, che c'è da dire, veramente, niente, un orologio, per tutti i giorni, soltanto, l'unica cosa, io l'ho comprato, per il, perché mi piace il modello, vabbè, però, la cassa è al limite, avendo un polso, io di 20, quindi, lo faccio sfruttare, a mia moglie, e penso in estate, cioè, la cassa è al limite, nel senso, che è troppo piccolo, perché è un 40 mm, quindi, per il tuo polso da 20, è troppo piccolo, secondo me, non esiste, un orologio troppo piccolo, 40 mm, poi, è perfetto per tutti, ma, lo può usare la moglie, questo qua è 40 mm, non, non, non condivido, non te lo appoggio, poi passiamo, al mio, secondo acquisto, che è questo, Longin GMT, Zulu Time, top 10, questo qui, non c'è nulla da dire, la licenzi, anche tu, sai, che è un orologio, veramente, performante, bellissimo, esteticamente, super preciso, l'ho preferito, in questa colorazione, in questa colorazione, perché il blu soleil, un po' mi ha stancato, ti dico la verità, questo qui, è un colore elegante, secondo me, da mettere, anche in una giacca, sotto, un vestito, elegante, diciamo, per un matrimonio, una cerimonia, certo, e, vabbè, diciamo che, è un orologio, che, umano, ha fatto, veramente, scalpore, certo, questo è un 42 mm, il 39, come ti dicevo, poco anzi, non lo preferisco, perché ho il polso, da 20, si fatica un po' qua, e poi, ti faccio vedere, il mio, pezzo, è importante, che, è questo, Breitling Avenger, 43, top, questo è un orologio, che veramente, io sono innamorato, è bello, è bello, perché, io, amo, questa Maison, e, soprattutto, amo, le finiture, di questo, orologio, non mi interessa, che c'è un calibro, di fornitura, ma, esteticamente, pazzesco, certo, ho fatto la recensione, lo indosso, veramente, con grande, piacere, commozione, ogni volta, commozione, addirittura, da, niente, e niente, andiamo avanti, questi qui, sono i miei, cinque orologetti, cinque orologetti, nuovi, che ho preso, e, ti, ti ringrazio, per, i contenuti, che ci porti, sul canale, e, continua così, vai forte, un abbraccio, love, continua così, vai forte, love, love, insomma, fai un po', fai un, ti trascini, diciamo, ti trascini, no, con questi, fatichi a esprimere dei concetti, un po', con limpidezza, no, velocità, con fruibilità, incespicavi, diciamo così, però, alla fine ci siamo arrivati, magari, è un video da tre minuti, ce ne hai messi cinque, ma non ci interessa, noi c'abbiamo tutto il tempo del mondo, tutto il tempo del mondo, ultimo, Breitling, Avenger, Avenger, che, è mostrato, è lo stesso che ho recensito io, una settimana fa, due settimane fa, è bello, c'è poco da dire, notavo anche che, ad esempio, io l'ho sempre detto, i Breitling, il vetro, è come se non ci fosse, te guardi, sembra, vedi subito il quadrante, non vedi riflessi, non vedi niente, sono veramente, da quel punto di vista lì, e non solo, sono veramente particolari, ora, la collezione tua, è parte, perché è un aggiornamento, hai detto, quindi è solo una parte, bene, così, far vedere una parte, è otto, per me è un bel lotto, perché tutti i orologi degni di, valore, di nota, di essere posseduti, al di là dei miei gusti personali, no, voglio dire, ti preferisci il 42, il 39, ma, anch'io, anch'io, passo dai 42, hai 39 senza problemi, te invece no, te sotto il 42 non vai, perché il 40 lo fai usare la tua moglie, mi sembra un po' esagerato, è solo questione di abitudine, indossi, se sei abituato a indossare orologi grandi, quando passi a quelli piccoli, dici un po' troppo piccolo, aspetta, spegni il cervello un attimo, due giorni, ti abitui, e diventa quella la misura ideale, quando torni a quelli grandi, dici, ma come sono grandi questi, è questione di abitudine, quindi secondo me, è vero avere orologi, da 45 mm, a 34 mm, e poi indossarli, con commozione, come dicevi, ogni giorno, ti sei commosso, ti commuove, va bene amico mio, bravo, hai preso un bel lotto, passiamo al prossimo video, mi commuovo, anche io, e anche la scimietta si commuove, la scimietta non si commuove, finge, la scimietta finge, per prenderti, per attanagliarti, no, per prenderti al cuore, finge di commuoversi, fa la lacrima, la lacrima di coccodrillo, la scimietta che fa la lacrima di coccodrillo, capito, così gli compri l'orologio, vabbè, ogni tanto, le perle vanno tirate fuori, no, ho un libro alto così, pieno di storielle, della scimietta, un giorno lo pubblicherò, eh, ciao Davide, ciao a tutti i ragazzi del canale, sono di, i ragazzi del canale, c'è, c'è un amante dei vinili, vedo, qua c'è una chitarra, una chitarra, con una bandiera confederata, mi sembra, poi abbiamo, eh, Guardians of the Galaxy, volume 2, non so cosa sia, vabbè, laggiù c'era una volta a Hollywood, scommetto che voi ci mostrerai un bel, Citizen Bullhead, eh, c'è anche il, il piatto lì per far girare i vinili, The Rest of Fuzz, part 2, è uscito The Rest of Fuzz, part 2, e io me lo sono perso, perché ho visto, parte 1 l'ho vista, vabbè, mi devo informare un attimo, forse l'ho vista tutte e due, non lo so, vabbè, si perde, perché con queste serie tv, ti fanno la prima stagione, poi passa più di un anno, alla seconda, io mi dimentico, cosa è successo nella prima, cioè vado in crisi, capito, fortuna quando ho beccato tipo Lost, l'avevo beccato che era già finito, mi sono guardato tutte le stagioni, tutte d'un fiato, una dietro l'altra, allora lì ci capisci, ma così come va oggi, va bene, dai niente, ho divagato. Di nuovo Antonio da Messina, sì, di nuovo io ho trovato le scatole, ti avevo mandato qualche video, uno l'hai pubblicato qualche giorno fa, e a proposito, mi hai mandato un Ciofe Caller, per un orologio che non ho comprato, di Jack Lemans, quindi questa qua, te la restituisco con un attimino di fuso orario, ma hai strappato un sorriso, allora ti volevo far vedere l'aggiornamento della mia collezione, che ti ricordo è partita da pochissimo, all'età di 40 anni, in due mesetti ho fatto questa collezioncina qui, mamma mia, due mesi, Seiko, versione Japan, che bello questo, questo Seiko Presage, a cui ho cambiato il... Presage no, ma anche te, Presage, Presage, ma perché dovete calcare l'aggiornamento in questa maniera qua, va bene gli accenti, va bene tutto quello che volete, ma Presage, Presage, senti come si pronuncia, leggero, proprio volare, Presage, Cinturino, quindi vorrei sapere se secondo te questi accostamenti di cinturino sono azzeccati, Sì, bello, ovviamente da mettere con un vestito un attimino più elegante, Oh, ci sta bene, dai, è un bel accoppiamento, L'altro orologio a cui ho cambiato il cinturino è questo Hamilton, ho messo questo nato originale, bello, ci sta, è il suo, è un quadrante, a vinile, simil blu, io ho messo questo qui, quindi questo qui, il Hamilton, uno che uso spessissimo al lavoro, bravo, io al lavoro rischio un pochettino con gli orologi, perché sono un tecnico di poltrone dentistiche, quindi similmeccanico, quindi metto le mani nei riuniti dentistici, e rischio di graffiare gli orologi, quindi ci devo fare un minimo di attenzione, nel caso li levo ovviamente, bello questo, poi vabbè c'era questo tisso, tisso, ah sì, tutti i 10 e 10, che purtroppo, per quanto è carino, non lo sto mettendo, peccato, ora volevo fare un piccolo giochetto, perché ho venduto, dato che non sono una persona facoltosa, ho venduto dell'oro che ho trovato qui a casa, e ho ordinato un orologio, come vedi io sono un amante di musica, siamo arrivati al punto di vendere, come i tossici, l'oro che è in casa, lo raccatti tutto, lo vendi per comprarti l'orologio, ma ci siamo veramente, secondo me c'è la scimmietta tossica, te lì sulla spalla, c'è la scimmietta tossica, che ti fa vendere l'oro di casa, hai rubato l'oro ai figli, alla moglie, a tutti, alla mamma, l'oro, non c'è più l'oro, è finito l'orologio, cavoli, è di cinema, secondo te, che orologio legato al cinema, ho potuto comprare, l'ho detto prima, l'ho detto prima, direi uno, ma non è quello, ok, per svelarti l'orologio, sono andato nella seconda location, che è lo splendido stretto di Messina, bello, peccato per le nuvole, però dai, almeno qualcosa di diverso, ogni tanto sul canale, bravo, dato che ti piace, conoscere chi ti manda, o cercare di capire un attimo, chi è che ti manda i video, quali sono le sue passioni, e quant'altro, allora, ti svelo l'orologio, speriamo che riesca a metterlo a fuoco, oh, Interstellar, questo è il mio ultimo acquisto, da quando è arrivato lui, praticamente, non sono riuscito a mettere gli altri, sto mettendo solo lui, Hamilton, 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 Kaki, Aviation, Pilot, Day-Date, non lo so, tre chilometri di nome, ma l'orologio è stupendo, con questo quadrante qui, i numeri a rilievo, le lancette che hanno quel disegno particolare, super visibile da qualsiasi angolazione, ottima visibilità, un buon peso, nel senso che te ne accorgi, di averla al polso, si fa sentire, non lo so, per me è splendido, aspetta che provo a togliermelo, cercando di lasciarti, un'inquadratura carina, così ve lo faccio vedere meglio, perché sono veramente, innamorato di questo orologio, so che non costa, non è di pregio, però, splendido, veramente splendido, allora, che ne pensi, di questi due mesi di collezione, ora sono molto, ora mi devo fermare, perché non ho più soldi, ma sono molto, 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 fissato, magari, di prendere, un paio di orologi, negli anni, raccogliendo i soldi, quindi ho un Riviera, però, Bommet Mercier, quello, penso, nero, beh, oppure, un cronografo, Tagoyer, sempre, quadrante nero, oppure, un glass hut, di quelli là, molto eleganti, e semplici, senza, molti fronzoli, però, cavolo, quello arriva a 10.000, se non sbaglio, 10, 11.000, però è molto elegante, col quadrante in oro, va bene, un salutone, ci vediamo al prossimo video, fra qualche anno, a questo punto, ciao da Messina, ciao, carissimo, grazie per il video, simpatico, mi hai mostrato, tutta una serie, di orologi, che vorresti comprare, che vanno dai, oltre 10.000, del glassuto original, fino al mido, baroncelli, che è quello che costa, un po' di meno, un ampio spettro, certo quando ho visto, il carriera, il cronografo lì, della Tagoyer, la scimmietta qua, sei svegliata di colpa, ho fatto, tux, perché è bello, il carriera lì, della Tagoyer, proprio bello, poi sono tutti diversi, uno dall'altro, e anche il costo, se pigli il mido, baroncelli, è uno che mi piace, anche a me, però è più, formale, come orologio, come il glassuto, che lì, è l'orologio che, spazza via, tutta la tua collezione, potresti tenere solamente lui, è ancora un po' l'idea poco chiara, e si vede che in due mesi, hai preso tanti orologi, tanti orologi, che insomma, un bel sette e mezza, te lo meriti, perché sono tutti decenni, sono tutti belli orologi, come si deve, mi fa specie che non utilizzi, quell'Orient lì, da 40 mm, il Maco nuovo lì, che va per la maggiore, è un che bellino, non lo utilizzi, ci sta, poi magari, lascialo lì, che poi magari, ti viene in mente, di utilizzarlo, e ti riparte la scimmietta, la scintilla, tra l'altro, io il mio Orient Maco 2, quello che ho, con la ghiera nera, che hanno fatto, per il quarantesimo anniversario, ventesimo, ventesimo, è uno degli orologi, più precisi che ho, perché non l'ho monitorato, non l'ho monitorato precisamente, però, da quando l'ho preso, l'ho sempre lasciato, nella scatola, utilizzato, ho messo nella scatola del tempo, ho utilizzato, ho messo nella scatola del tempo, e cavolo, e l'orario, quando guardo il telefono, guardo l'orologio, è lo stesso, ora non so se, cambiare di qualche secondo, ma, in più di un mese, mi cambiare di qualche secondo, vuol dire che è precisissimo, sono fortunato, poi lo devo tenere per sempre, perché non capita tutti i giorni, di avere un orologio, così preciso, economico, insomma, il voto te l'ho dato, la location lì, dello statuto di Messina, è spettacolare, ecco, l'orologio, del film, è, Interstellar, Hamilton, Likaki, Navi, Pilation, Pilation, Pioneer, bello, 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 avevo sbagliato, giustamente, te mi hai tirato il gancio, il trappolone, mi hai fatto vedere il film, c'era una volta a Hollywood, io ho detto, Citizen Bullet, e track, poi mi hai fatto vedere Hamilton, va bene, hai vinto te, se ti basta così poco per vincere, siamo tutti contenti, boom, ragazzi, la puntata finisce qua, lo so che vi dispiace, mi dispiace anche a me, ma purtroppo, di là c'ho già Instagram pronto, che fai partire così, e partono i gattini, che saltano di qua, di là fanno miau, miau, fanno i salti più strani possibili, e io mi appassiono a queste cose qua, mi appassiono, mi appassiono, poi magari ci sta anche, che apro un canale dedicato ai gattini, e ai loro giochi preferiti, questo qua sarà il titolo del canale, cosa ne dici, si può anche fare, no? Per adesso vi ringrazio, per essere arrivati fino qua, aver guardato il video con me, e vi ricordo gli appuntamenti fissi, che come sempre sono, quando voglio io il più spesso possibile, qui su YouTube, love. Grazie a tutti.